Hello Freaks! Oggi inizia la settimana di Halloween, in cui io, insieme ad altri colleghi, vi racconteremo alcuni dei casi più terrificanti che hanno avuto luogo nel periodo di questa famosa festa. Oggi, io e Andrea, di Andrew Files, vi parleremo di un ragazzo normalissimo, vittima di omertà, bugie e lotte interne, che lo hanno reso protagonista di un caso ancora irrisolto. Ciao amici e amiche di Marilyn, io sono Andrew e sono davvero felice di essere sul canale di Marilyn, appunto, per aiutarla a raccontarvi questa storia davvero da brividi. Ho un canale anche io in cui racconto storie in generale spaventose e inquietanti, che trattano sì di true crime, ma anche di eventi spaventosi più in generale. Quindi se volete dare un'occhiata siete ovviamente benvenuti, ringrazio Marilyn per avermi invitato qui, e adesso basta parlare e cominciamo con la storia di oggi. Ma se siete curiosi di scoprire insieme a noi cos'è accaduto a Kurt Sova, spegnete le luci, mettetevi comodi e iniziamo con questo primo video della settimana speciale di Halloween. Siamo negli anni Ottanta, in America, nello stato dell'Ohio. A pochi passi da Cleveland si trova la cittadina di Newburgh Heights, un luogo all'apparenza pacifico, tranquillo, abitato da poco più di mille abitanti. In questo paesino vive la famiglia Sova, composta da madre, Dorothy, il padre, Ken, e ben quattro figli maschi. Il più grande si chiama Kevin, e il più piccolo è il nostro sfortunato protagonista, Kurt Sova. Nel 1981 ha 17 anni e come tutti gli adolescenti, amici con cui esce di frequente e vive normalmente la sua vita scolastica. Non sembra avere grossi problemi di bullismo o altro, anzi, è uno dei ragazzi più normali che esistano. Stando a quanto conferma sua madre, Dorothy, non ha mai avuto a che fare con la polizia, né si è circondato di cattive compagnie. Suo fratello maggiore, Kevin, lo adora. Dice che potrebbe fare grandi cose, perché è molto atletico, talentuoso, e cela in sé un lato artistico. Ha sempre rispettato i coprifuochi stabiliti della madre, e non pare abbia mai litigato in famiglia, né con nessun altro. In poche parole sembra essere un ragazzo d'oro, un giovane promettente con davanti a sé un grande futuro. Deve solo scegliere quale, perché di certo le possibilità non gli mancano. Ma chi se lo sarebbe mai aspettato che, nonostante tutte queste qualità, gli fosse mancato un po' di buonsenso? Dico questo perché sarà un invito innocente rovinargli la vita, per sempre, cancellando il suo futuro e tutte le possibilità che avrebbe potuto avere. È un venerdì dell'ottobre 1981. La scuola è iniziata già da un po', e Kurt ha ripreso le sue solite attività. La sua solita vita, tra compagni, compiti e amici. Halloween è nell'aria, e tra le strade si intravedono abitazioni decorate a tema. Tornando a casa da scuola, Kurt incontra un suo amico, di nome Sam. I due si parlano, e il ragazzo viene a sapere di una festa a casa di un conoscente, un amico in comune, una certa Susan. La festa da Susan dista ad un paio di miglia da casa dei Sova, per cui il diciassettenne si lascia convincere. Dopotutto, cosa c'è di male? Tornando a casa sua, chiede il permesso di andare, promettendo di tornare non troppo tardi. I coniugi Sova gli danno il consenso, non sapendo che quella sarà l'ultima volta che avrebbero visto il loro figlio vivo. La festa in quella casa è in tema Halloween. Le pizze vengono consegnate, e l'alcol viene bevuto come nei più classici parti americani. Ci sono coetanei di Kurt, ma anche persone più grandi, oltre ad esserci un cospicuo numero di estranei, sia per il ragazzo, sia per l'organizzatrice stessa della festa, Susan. Giunti però ad un'ora tarda, Kurt non fa ritorno come promesso. Il sabato mattina successivo, Dorothy, la madre, si accorge che suo figlio non è rientrato, e questa cosa la preoccupa. Per cui si chiede all'armata dove possa essere andato. Chiama allora i suoi amici, cercando risposte, ma non le ottiene. C'è evidentemente qualcosa di strano. Ken, il padre, si mette a cercare in giro per la città, temendo anche lui il peggio. Giunte la domenica, quando le decine di telefonate sono andate a vuoto, quando persino il tentativo di chiamare Kurt risulta inutile. E dopo tutte quelle ricerche fisiche sprecate, i coniugi Sova, insieme agli altri loro figli, vanno decisamente nel panico. denunciano alla polizia cittadina la scomparsa di Kurt, informando così la popolazione locale, e distribuendo volantini. Da qui, purtroppo, ha inizio un'epopea, che è dell'incredibile. Iniziare a raccontare quello che è successo, dalla denuncia di sparizione in poi, risulta davvero difficile. Ma non perché ci sono poche informazioni, anzi, piuttosto per il peso morale delle azioni compiute da certi individui di cui bisogna parlare per forza. Presto capirete il perché. Durante quella domenica, ovvero il giorno della denuncia, succedono molte cose. Dorothy, la madre del ragazzo, è la più determinata a ritrovare il figlio, e si mette in prima linea in questa battaglia per la verità. Viene a conoscenza del luogo in cui Kurt sarebbe andato quella sera, ovvero la casa di Susan, dove c'era la festa di Halloween. Qui però ci sono due versioni dei fatti. Una fonte dice che Dorothy avrebbe chiamato questa ragazza, mentre un'altra afferma di come si sia recata personalmente nel luogo, parlando prima con un'altra persona, la quale le avrebbe detto che Susan non era in casa in quel momento. Fatto sta che in un modo o nell'altro le due si sono effettivamente messe in contatto. Dorothy è chiaramente disperata e chiede cosa fosse successo a suo figlio quella sera, in quella casa. Ma a scioccare la madre è la risposta di questa Susan. Le dice che Kurt non era mai stato in quella casa, perché lei non aveva mai fatto una festa. La famiglia Sova prende un colpo. Sono certi che il ragazzo si sia recato lì, perché non credono proprio che avesse mentito. Banalmente, perché avrebbe dovuto farlo? Magari Kurt stava nascondendo qualcosa a tutti, magari aveva un conto in sospeso con qualcuno, forse è semplicemente scappato via. Eppure la domanda è la stessa. Perché? Quale motivo aveva? Dorothy rimane incredula su questo fatto e non sa che pensare. Intanto la domenica va avanti e altre informazioni le piovono addosso. L'amico di Kurt, Sam, quello che gli ha consigliato la festa, si fa avanti e racconta alla madre l'ultimo incontro che aveva avuto con lui. A quanto pare, stando le sue parole, Kurt sarebbe stato ubriaco. Quindi Sam lo avrebbe portato fuori dalla festa per prendere una boccata d'aria. Lo avrebbe lasciato vicino ad una staccionata dicendogli che sarebbe tornato subito. Voleva prendergli il cappotto. Ma quando sarebbe uscito nuovamente di casa con il giobotto in mano, Kurt non c'era più. Era completamente svanito nel nulla. Anche questa dichiarazione per Dorothy sembra strana e incoerente. Conosce troppo bene il suo ragazzo. Sa che non è mai stato tipo da bere, molto o poco che sia. L'unica probabile possibilità sarebbe quella di un qualcuno durante la festa così molesto che lo avrebbe costretto a bere tanto. Altrimenti Kurt non si sarebbe mai azzardato di sua spontanea volontà. Ma questo amico non dice altro e ciò fa notevolmente preoccupare la madre, la quale stava iniziando a intravedere una specie di situazione losca, inquietante. Forse qualcuno o più persone sanno quello che è veramente successo e non vogliono rivelarlo per chissà quale motivo. A sangue freddo, molto probabilmente aiutata dalla polizia, riesce a rintracciare un fattorino che ha consegnato delle pizze quel venerdì sera. Egli conferma che effettivamente un party c'è stato e almeno una dozzina di persone erano presenti. Dorothy aveva ragione nel sospettare un imbroglio. Susan ha mentito, ha tenuto una festa e non ha detto la verità. Infuriata, la madre chiama nuovamente la ragazza, schiaffandole in faccia la verità e pretendendo delle spiegazioni. Lei ammette di aver mentito e spiega che sì, una festa di Halloween l'aveva data ed effettivamente c'erano persone molto più grandi di lei e Kurt, ma non sa altro. A seguito di questa rivelazione, Dorothy viene a sapere che qualcuno effettivamente pare abbia visto Kurt lì. Stava bevendo un liquore forte chiamato Everclear, una bevanda alcolica che negli anni 80 era illegale in alcune parti degli Stati Uniti. L'Everclear è potente, troppo per uno come Kurt, che non beveva mai ed era magro e avrebbe fatto del male molto rapidamente. Ma tutto così risulta ancora più confuso. Cosa cavolo è successo quella sera? Il ragazzo ha bevuto o non ha bevuto? Si è sentito male? Susan non ha davvero visto niente? La famiglia Sova è oltremodo afflitta dal tipo di testimonianze che stanno ottenendo e voi probabilmente vi starete chiedendo Ma la polizia? Ebbene, gli agenti effettivamente provarono a condurre le indagini, ma tutto era appena successo e non c'erano ancora molte prove. Quindi, cosa si poteva fare? A questo punto tutti i diretti interessati sono stati interrogati e un quadro chiaro della vicenda non c'è e giunti a lunedì la situazione non migliora. La voce si è sparsa e tutti, specialmente nella scuola, iniziano a parlare dell'avvenimento. La madre Dorothy, invece, riceve un'altra testimonianza che porta il caso in una nuova nube di misteri. Un compagno di scuola pare avesse visto Kurt. Questo compagno racconta che stava andando a un colloquio di lavoro quando avrebbe notato proprio Kurt in lontananza salire su un furgone con persone che non gli parevano della zona. Lo avrebbe sentito gridare «Ehi, Franco! Per poi vedere sparire quel furgone per sempre!» Kurt sembrava conoscere le persone nel veicolo, ma il compagno di scuola, quello che avrebbe visto la scena, in quel preciso momento non era ancora a conoscenza della sua scomparsa. Ecco perché non aveva fatto nulla in quell'istante. E questo è strano, non credete? Com'è possibile che questo compagno non abbia ancora saputo della sua scomparsa? Potrebbe accadere, sicuramente, ma già le precedenti dichiarazioni non hanno convinto la madre, la quale diventa sempre più diffidente ogni giorno che passa. Per lei è chiaro che ci sia sotto un complotto, un'omertà pesantissima da parte di tutti questi adolescenti che, secondo lei, sanno ma non vogliono dire o forse non possono. Forse è davvero successo qualcosa di terribile al povero Kurt quella notte. Un episodio alquanto raccapricciante che riguarda questo caso spaventa il povero proprietario di un negozio di dischi. All'interno del negozio vi è appeso un volantino di Kurt e uno dei clienti guardando il manifesto avrebbe detto queste parole rivolgendosi al titolare. Potrebbe anche toglierlo, sarà trovato morto tra due giorni e nessuno saprà com'è successo. Ora, questo commento sembrerebbe di pessimo gusto e decisamente indedicato. Un evento da poco, tutto qui, se non fosse che diventerà abbastanza importante dopo un fatto che, quasi come in una amara ironia, lo avrebbe quasi pronunciato. In che senso? Beh, purtroppo di morte si parla. Quella persona aveva fatto un commento che poi si è verificato esatto. Il corpo senza vita del povero Kurt Sova viene ritrovato il mercoledì 28 ottobre 1981 a pochi chilometri di distanza dalla casa di Susan. Tre ragazzini stavano giocando in una sorta di burrone quando hanno trovato il cadavere del ragazzo in una posa alquanto strana. viene descritto come se il suo corpo fosse messo in una posizione simil crocifisso e la polizia corre subito per analizzare la scena. Naturalmente la notizia sciocca ancora di più la famiglia che forse si aspettava ancora di trovarlo vivo da qualche parte. Adesso, essendoci un cadavere, il caso diventa ancora più complicato e la situazione è decisamente più tesa. Tutte quelle testimonianze strane adesso paiono davvero inquietanti perché ora la persona in questione non è più in vita e qualcuno ne è decisamente responsabile. Anche i dettagli sul corpo e su quello che succede in seguito ha dell'incredibile e non è a cuorleggero che si possono dire queste cose ma ascoltate bene. Il tenente Robert Carras del dipartimento di polizia di Newburgh High l'uomo a carico dell'indagine crede che il corpo di Kurt sia stato scaricato in quel burrone di proposito e chiunque lo abbia fatto conosca molto bene la zona al punto di sapere che prima o poi qualcuno sarebbe passato di lì. La posizione innaturale suggerisce un evidente intervento da parte di qualcuno o addirittura più di uno. Viene allora setacciata all'intera area alla ricerca di indizi e effettivamente si trova qualcosa la scarpa sinistra di Kurt incastrata in alcune rocce poco distante dal corpo e in tutto questo la scarpa destra non verrà mai ritrovata. Una volta portato il cadavere in laboratorio per l'autopsia vengono fuori dettagli davvero strani. Kurt presenta soltanto qualche graffietto ma nulla di più. Non ci sono danni fisici né interni né esterni. Nessuna contusione frattura o ferita grave. C'è effettivamente dell'alcol nel suo corpo ma in un quantitativo decisamente ridotto nulla che gli avrebbe mai fatto del male insomma. Inoltre il medico legale stabilisce un dato allarmante. Kurt sarebbe deceduto tra le 24 e le 36 ore prima del suo ritrovamento. Questo vuol dire che era vivo fino a qualche giorno prima non è deceduto subito dopo quel venerdì sera. La domanda allora sorge spontanea dove è stato il ragazzo per tutto quel tempo? Per Dorothy questa ulteriore domanda è insopportabile. I medici non riescono a dire altro sulla causa della morte relegandola ad una morte fisiologica istantanea il che per la famiglia Sova vuol dire tutto e niente. Questa rivelazione ovviamente viene data in pasto ai media che ne diffondono le notizie in tutto il paese. Pertanto vi ricordate del cliente del negozio di musica? L'uomo che aveva detto al titolare di togliere il manifesto di Kurt? Ebbene dopo la notizia del ritrovamento del cadavere questo losco individuo viene preso in considerazione dagli inquirenti per aver mandato un mazzo di fiori al proprietario del negozio di dischi con un biglietto con su scritto Le rose sono rosse il cielo è blu lo hanno trovato morto e troveranno morto anche te. Purtroppo questo soggetto di cui non è stato rivelato il nome viene ritenuto mentalmente instabile e non ha nulla a che fare con la morte del ragazzo è soltanto una piccola fastidiosa parentesi in un caso sempre più complesso e articolato eppure qualcosa rimane nella testa di Dorothy il complotto è difficile farle togliere dalla mente l'idea che sia finita in una sorta di cospirazione in atto da parte sia dei giovani amici e conoscenti di Kurt sia dalle autorità perché anche queste ultime dopo averse tacciato la zona del ritrovamento non hanno fatto più nulla come se non fosse abbastanza Susan la ragazza che aveva organizzato la festa dopo aver scoperto del ritrovamento di Kurt chiama subito Dorothy per dirle qualcosa di importante a quanto pare qualcuno aveva dormito nel suo seminterrato e forse era stato proprio Kurt immaginate Dorothy al telefono durante quell'ennesima testimonianza chiede alla ragazza il perché di questa testimonianza dopo averne fatte già altre in passato e aver mentito e perché aver detto questa cosa proprio ora dopo che il corpo è stato ritrovato non sa se crederle oppure meno ma decide comunque di parlarne con il marito Ken il quale questa volta si offre lui stesso di andare in quella misteriosa casa a verificare a sorpresa se quello che la ragazza aveva detto fosse vero giungendo nel luogo Ken scende nel seminterrato in quel momento pensa che forse Kurt si sia sentito male quella tragica sera o che fosse stato ferito ma perché nascondersi lì una volta entrato in quel tugurio trova effettivamente una branda sembra proprio che qualcuno ci avesse dormito ma dopo aver perquisito l'intero seminterrato non si trova nessuno né alcun indizio importante Ken non può affermare con certezza se suo figlio avesse dormito lì o meno quel che è certo però è che qualcuno quella notte ha dormito su quella branda non c'è niente che si possa collegare a quel povero ragazzo discutendone tra marito e moglie Dorothy crede che Kurt fosse stato per davvero in quel seminterrato ad un certo punto della serata pensa addirittura che fosse morto lì il motivo però non lo sa sempre secondo lei i partecipanti alla festa sarebbero andati in panico nel vedere quel corpo nel seminterrato decidendo così poi di gettarlo nel burrone ma indipendentemente dal fatto che Kurt sia deceduto o meno in quel maledetto scantinato i suoi genitori sono sicuri di una cosa 24 ore prima del ritrovamento lui in quel burrone non c'era ma chi diavolo è stato perché la polizia non fa nulla cosa nascondono gli amici del ragazzo a questo punto della vicenda è tutto così critico e teso che la cittadina di Newburgh Heights non gode della stessa fama di un tempo tra i suoi pochi abitanti gira un assassino o persino più di uno c'è comunque qualcuno che forse ha conoscenza di un qualcosa e non vuole parlarne cosa c'è sotto viene da pensarlo anche a seguito di una terribile tragedia avvenuta poco dopo quella di Kurt questo nuovo evento pare essere collegato alla nostra storia sentite pochi mesi dopo nel gennaio del 1982 un altro ragazzo di nome Eugene Kvet sempre della cittadina sarebbe scomparso per giorni solo per essere trovato morto in un burrone di Harvard Street anche lui come Kurt è scalzo la sua scarpa sinistra viene trovata nelle vicinanze e la sua scarpa destra manca proprio come quella di Kurt i due giovani erano amici le dichiarazioni si sprecano in questa odissea che puzza di imbroglio e inganni queste sono alcune parole pronunciate dai diretti interessati questo caso ha tutti segni di corruzione e insabbiamento non puoi dire chi sta mentendo e qual è il loro motivo qualcuno alla festa potrebbe essere stato coinvolto nella morte di Kurt e questo qualcuno ha mentito per insabbiare il tutto c'era qualcos'altro che stava succedendo alla festa che ha tenuto in silenzio gli ospiti per così tanto tempo la polizia ha arrestato l'assassino e l'ha lasciato andare in seguito ha ucciso di nuovo prima di fuggire dalla città potremmo non saperlo mai la madre di Dorothy in particolare dice Kurt non ha mai avuto problemi con i vicini non ha mai avuto problemi con lui a scuola non ha mai avuto problemi con la polizia ecco perché non riesco a capire cosa sia successo non era da lui andarsene durante la notte non era da lui stare fuori dopo le 22 o dopo le 22.30 o ancora più tardi prima del ritrovamento abbiamo perquisito i burroni i cortili delle scuole siamo arrivati persino a cercare nei cassonetti dell'immondizia non credevo che non potessero dirmi com'è morto il mio Kurt per la mia tranquillità voglio sapere cosa è successo al mio figlio purtroppo ancora oggi non si sa molto altro di quel venerdì sera eppure è stata fatta un minimo di giustizia alcuni nodi sono venuti al pettine Dorothy come avete visto è sempre stata sospettosa del caso percependo sulla pelle qualcosa di marcio un'omertà pericolosa che le impedisce di scoprire la verità persino tra le autorità in città sospetta di qualcosa come se non fossero davvero interessate a risolvere il caso è pur vero che negli anni 80 la tecnologia soprattutto nel ramo della scienza non era così evoluta le circostanze della morte di suo figlio rimangono purtroppo ancora quelle ma su alcuni membri del dipartimento di polizia di Newborn Heights pare esserci effettivamente qualcosa di losco ebbene una sola fonte quindi da prendere con le pinze riporta che nel corso di diversi anni alcuni agenti sono stati arrestati con accuse che andavano dalla falsificazione delle credenziali al traffico di zucchero a velo il tenente Carras a capo delle indagini è stato successivamente scoperto essere un tossicodipendente che avrebbe aggredito prigionieri ammanettati presumibilmente ha portato un prigioniero nel magazzino vicino a dove è stato trovato il corpo di Kurt e ha cercato di combattere con lui nel 1991 è stato condannato ufficialmente a circa una decina d'anni di galera per aver aggredito i prigionieri nega però di essere stato coinvolto nella morte di Kurt Sova in seguito la polizia di Cleveland gli uffici dello sceriffo del pubblico ministero della contea e persino le FBI hanno esaminato il caso tutti loro ritengono che la polizia di Newborn Heights avesse svolto un'indagine a dir poco scadente l'assenza di una vera perquisizione nella casa della festa e di quella di dichiarazioni scritte da parte dei diretti interessati contribuiscono a rendere becero il lavoro svolto da quegli agenti a quanto pare avrebbero persino rifiutato un'offerta di aiuto dalla polizia di Cleveland poco dopo la morte di Kurt se tutto questo fosse effettivamente vero darebbe ragione ai dubbi della madre circa quest'area di negligenza e omertà sul caso di suo figlio risulterebbe terribile immaginare cosa quella donna e l'intera famiglia hanno provato in questo periodo vedere il più piccolo della famiglia praticamente sminuito da circostanze contraddittorie e negligenze oltre che ad una presumibile mancanza di volontà nel dire le cose come stanno magari per paura magari per vergogna ma per i genitori Dorothy e Ken qualcuno sa e non ha il coraggio di parlare e purtroppo moriranno con questa convinzione senza sapere realmente cosa è successo a Kurt l'intera famiglia sova si decima il 12 luglio 2001 Ken muore all'età di 68 anni il 7 dicembre 2014 Dorothy ci lascia a 66 anni lasciano questo mondo anche gli altri due fratelli rimanendo solo il più grande Kevin l'ultimo sova a cercare un po' di risposte essendo stato il fratello più vicino estimato di Kurt Kevin adesso è adulto e avanti con l'età ha la sua vita e ha praticamente accettato da tempo la morte del fratello e l'impossibilità di venirne a capo purtroppo il caso non era mai stato considerato come un omicidio e questo ha contribuito a renderlo freddo per diversi anni ma nel novembre del 2019 è stato annunciato che il dipartimento di polizia di Newburgh High abbia deciso di riaprire il caso collaborando anche con la Tiffin University un professore di giustizia penale e una dozzina di studenti di quell'università stanno attualmente analizzando le prove nel febbraio del 2020 il caso di Kurt è stato presentato nell'evento CrimeCon chiamato CrowdSold a quell'evento 100 partecipanti hanno collaborato con le forze dell'ordine e gli esperti di medicina legale notevolmente aggiornata visto il passare degli anni e hanno deciso tutti di risaminare il caso e aiutare a risolverlo non è noto però se siano state scoperte nuove informazioni viene però offerto un premio di 5000 dollari il che non è quasi mai un buon segno la morte di Kurt rimane un caso misterioso e pieno di insidie Kurt forse è stata vittima di persone che non hanno mai avuto il coraggio di rivelare la verità circa gli avvenimenti di quella disastrosa festa di Halloween dell'81 è stata aperta inoltre una pagina Facebook sul caso chiamata Justice for Kurt Sova qualunque cosa sia successo a quella fatidica notte Kevin l'ultimo dei Sova pensa che il fratello si sarebbe potuto salvare se soltanto qualcuno quella sera avesse deciso di aiutarlo e per concludere queste sono le sue parole penso di essermi dato pace con questa storia non voglio più incolpare qualcuno non importa cosa succederà nessuno comunque riporterà indietro Kurt con queste tristissime parole nella speranza che le nuove indagini portino a qualcosa purtroppo questa è la fine della storia del povero Kurt Sova e questo è tutto per questo primo video della settimana speciale di Halloween ringrazio ancora una volta Andrea per aver partecipato a questo video e vi lascio inoltre i link dei suoi tuoi canali in descrizione adesso io ringrazio tantissimo la mia amica e collega Marilyn che mi ha permesso di essere qui a raccontarvi questa storia oggi la saluto tanto e saluto tanto anche voi sperando che questo video vi sia piaciuto nonostante la crudezza degli eventi ciao e noi ci vediamo domani con un altro video e noi ci vediamo